Musica Abbiamo giocato 5 delle 18 buche del percorso di Robert Trent Jones che è stato costruito nel 1971, ma queste buche mantengono un valore tecnico altissimo ma l'ambizione del Royal Park non finisce qui perché altre 18 buche si apriranno fra pochissimo e proietteranno questo circolo ad essere un punto di riferimento nel panorama golfistico internazionale.